Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi apriremo un nuovo pacco, ma non DJ America, di American Crunch. Un nuovo sito, oggi proveremo come sarà. Asistente? Ok, mettiamolo dalla parte giusta e apriamolo. Quanto grande è il pacco, devo dire. Perché devo svegliere il pacco? Qui ci sono tutte le cose che ho preso, ma non svoleriamo. Wow, quante cose. Ci sono dei bigliettini in delle lingue, per vedere. Cartone. Bello il cartone, devo dire. Abbiamo... Vernice. Questa è la fragola. Alla fragola. Invece quella che abbiamo preso in America era quella normale. La mettiamo qui. Vernice normale e vernice la frase. Le patatine. A gusto... Non si vede. Al formaggio, non so. Vabbè. Le patatine. Ok. Di nuovo questa. Vernice blu. La piccola vernice blu. La piccola. Questa qui, ovviamente è blu perché è il mio colore preferito. Questa è una caramella con una pena. Questa è un liquido che lo metti sopra ed è frizzante ed è buono. Ne parlano bene. Ne parlano bene. Questa invece è una caramella che quando la sbatto, io non la sbatto, si rimpicciolisce. Infatti, già è diventata più piccola quando l'hanno trasportata. Ok. Ma non la rimpiccellerò male. Una jelly all'uva. Non l'ho scelto io il gusto. Questo qui che sarebbe... Sciroppo? No. Una bevanda in questa flevo. Che sarebbe sangue. Però non è sangue. Ma non so come stiamo spiegando. Delle altre jelly. Buone. Altre jelly sono giganti. Questa bevanda qui, che è una al mirtillo, sempre frizzante. Un pezzo più bello? Una cannuccia. Una cannuccia con il ripieno dentro. Di polverina sempre frizzante. E poi l'altro cartone. E poi c'è l'ultima cosa. Il cartone. Spero vi sia piaciuto questo video di questa nuova azienda. In questo nuovo pacco. Che non abbiamo mai provato. A me piace tutto molto. E' da... E' da American Crunch. E un saluto. Ciao.